E prosegue anche in Molise la raccolta dei fondi da destinare alla ricerca scientifica medica di Teleton per l'evento conclusivo di domenica 13 dicembre. La città di Sernia si trova in prima linea. Andiamo a vedere. Congrazio a tante donne che hanno partecipato all'iniziativa di quest'anno. Io come sorella di Antonio e anche come presidente di Chimos sento di dovere molto alle tantissime persone che ruotano intorno a questa manifestazione. A cominciare da Maria Libera Caroselli che è la promotrice del gruppo delle mamme. Perché dobbiamo dire che Antonio Fosma è l'assegno finale che viene donato a Teleton. È il risultato di una serie di eventi, di manifestazioni che ruotano intorno a questa manifestazione conclusiva che vengono organizzate in tutta la provincia. Mi piace ricordare in primis il gruppo delle mamme di Maria Libera Caroselli che quest'anno ha organizzato questo bellissimo albero che è un'opera d'arte secondo me. Quindi ringrazio tutte le pizzigliare che hanno realizzato questi meravigliosi pizzi sia al tombolo che all'uncinetto. Ci sono dei pezzi veramente meravigliosi. E poi mi piace citare anche l'associazione Caffracottesi che l'anno scorso ha donato. E quest'anno anche so che stanno organizzando delle cose per donare anche quest'anno. Ringrazio gli sponsor che ogni anno ci sono vicini. E poi devo ringraziare tutti i cittadini della nostra città che ogni anno intervengono veramente numerosissimi all'auditorio. Ma a volte dobbiamo centellinare i biglietti perché non possiamo accontentare tutti. Quest'anno purtroppo l'evento per ovvie ragioni non può andare in scena. Però ugualmente ci siamo detti di voler organizzare comunque la raccolta benefica. Vi ricordo e approfitto che si può donare anche sulla piattaforma www.ifcrowd.com. C'è un evento su questa piattaforma che si chiama proprio Antonio Fosma. E donare è semplicissimo. Basta andare lì e donare quello che si vuole. Anche un euro è un segnale, è un bellissimo gesto per arricchire il nostro Natale. Comprimente a voi, avete creato un esercito di volontari, di persone per bene, di persone che hanno un cuore grande. Sì, è la mia soddisfazione più grande quella di vedere tantissime, ma veramente tante persone che si stringono intorno a noi perché hanno capito l'importanza di questa causa. Si stringono intorno a noi e insieme a noi portano avanti questa bellissima manifestazione. Grazie.